Nei prossimi giorni, fin da subito, perché queste sono misure operative fin da questo momento, la Regione investe massicciamente sui giovani, investe sull'apprendistato, investe sulla stabilizzazione e sulla buona occupazione dei giovani. Noi mettiamo a disposizione una cifra ingentissima, sono 46 milioni più gli accordi con i fondi interprofessionali, sono altri 9 milioni, quindi 50 milioni per le imprese che vogliono assumere dei giovani e che vogliono con questi giovani però fare più formazione, più competenza, più intelligenza. Noi abbiamo dato due criteri molto semplici, il primo criterio è che questi interventi sono sempre più significativi per le imprese che non hanno licenziato, chi da due anni non licenza prende il 100%, chi è un anno prende la metà, ma chi nei tre anni del patto precedente sono nel 150%. Si tratta di incentivi significativi, parliamo di 8 mila euro se si assume una ragazza e di 7 mila se si assume un ragazzo, questi si sono disoccupati, meno se ovviamente è una transizione da una posizione già esistente ad un'altra. Però il punto fondamentale è questo, noi crediamo che oggi si compete nel mondo se si hanno più competenze, più competenze vuol dire più scuola, più formazione, vuol dire più qualifiche, vuol dire soprattutto l'idea che tutte le nostre imprese si devono muovere su più qualità.